Oggi quello dell'avvocato è un lavoro come un altro, sottopagato e decisamente inflazionato. Ma lei viene in tribunale con la bussa del pesce? Questa è la spesa per il professor Bellastella, io sono il suo praticante. Abbiamo detto 47 esaminandi? Sì. Noi abbiamo la responsabilità di insegnare loro il ruolo livellatore dell'università. Lascio! Ma questo ragazzo lo paghiamo come cuoco o come praticante? Io in tre anni la faccio diventare il più grande penalista italiano, se lo ricordi. Io mi sposo la sua amica e lei mi fa il contratto. Sposo, parolona, non è propriamente una studentessa. L'avevo intuito. Per fare l'avvocato a quei livelli ci vuole un certo velo sullo stomaco, papà. Lei ha bisogno di visibilità mediatica, qualcosa di impattante. E che io ne organizziamo noi l'evoluzione? Allora non ha capito niente, lei. Poi ha anche un ambiente cinico. Molto cinico. Fortunatissima per le verità Fortunatissima per le verità Lei ha scritto alla massoneria? Lei è dei nostri. No. No? Sono il quadrato della città Sono il quadrato della città La città La città La città La città Ma che fa? Tecniche di mimesi per entrare nel territorio Non si preoccupi Un chino Un chino Non Un chino Un chino Un chino Su Un chino Un chino